musica 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 cinquanti pote da già ricerche non ne hai aere da montare questa che la gente ha sport che gli diavolo maleritti musica ma perché che fanno i mali ah devo vedere che siete un diavolo non sono un diavolo ma sono un pittore mia culpa mia culpa mia massima culpa io non sono una buona figlia ma io ho bisogno di essere libera musica 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 Europe is at work We are the revolution Tu vuoi giustizia e pace per gli esseri umani Ma che umani siamo se non proviamo compassione?